Ecco come la maggior parte delle influencer vanno a crescere i loro profili. Il 36% dei follower delle influencer è falso. E oggi scopriamo qual è il modo, nel 2024, per poter andare a crescere come fanno loro. Fast Media. Andiamo e clicchiamo quello che è Fast Media. Di conseguenza ci carica quello che è il sito. Come vedete, il sito è molto molto affidabile. Ci sono recensioni da tutte le parti. C'è anche su Trustpilot con recensioni veramente ottime, una valutazione di 4.8. Abbiamo diverse offerte. Ci sono anche delle offerte molto vantaggiose in questi giorni. Ad esempio, in questo momento ci sono delle offerte per il pacchetto Instagram. Ci sono delle offerte per il pacchetto Vira. Ci sono delle offerte per il pacchetto di conseguenza per Facebook. E ovviamente se noi scendiamo troviamo anche i vari persone che hanno parlato di questo sito e che si sono trovate ovviamente molto bene e che funziona. Io ovviamente l'ho già visto in un paio e di conseguenza mi affiderò a questo sito. Come potete vedere ci sono anche i pacchetti singoli. Like, commenti, views, quelli che sono anche i follower. Sia per TikTok, come abbiamo visto sopra, Instagram, Facebook e anche quello che è Twitter. Ora, quello che noi andremo a fare è andare a comprare letteralmente quelli che sono i vari pacchetti. Andiamo a comprare, ad esempio, su follower. Andiamo su follower e andiamo a comprare quelli che sono magari 10.000 follower. Perché 10.000 follower? Perché 10.000 follower, diciamo, è una buonissima base di partenza per fare qualsiasi cosa. Per fare quella che può essere una collaborazione, per poter fare quella che può essere vendere dei prodotti, vendere dei servizi. Qualsiasi cosa vi possa venire in mente. Già 10.000 follower è un forte posizionamento. Come potete vedere, dobbiamo inserire quello che è il link. Ritorniamo sul nostro profilo e letteralmente andiamo su quello che è condividi profilo. E adesso ci farò ovviamente quello che è il vario tutorial. Andiamo su copia link. Di conseguenza usciamo. Di conseguenza torniamo di nuovo indietro. Andiamo su Google dove ci siamo rimasti. E letteralmente andiamo ad incollare quello che è il nostro profilo. Andiamo su aggiungi al carrello. Qui c'è anche un supporto WhatsApp davvero fantastico, velocissimo. Andiamo direttamente a quello che è il checkout. E poi di conseguenza vi faccio vedere che prendiamo anche quelle sono le views e i vari like. Qui ovviamente io vi consiglio di mettere quella che è la vostra email, il vostro numero di telefono. Checcate questi due box in modo tale che potete ricevere offerte, fanno delle offerte letteralmente, delle promo settimanali. In modo tale che potete avere dei pacchetti super super vantaggiosi. Potete pagare ovviamente con quello che è la carta. Qui andremo a mettere tutti quelli che sono i nostri dati. E poi di conseguenza qui potete mettere quello che è il vostro codice sconto. Ok, ve lo lascio qui in modo tale che potete applicarlo qua. Di conseguenza riceverete quello che è il 5% di sconto. Poi se volete pagare anche con quello che è PayPal, potete farlo però dovete contattare quello che è l'assistenza. Ok? E poi loro vi daranno quelle che sono le istruzioni. Ora compilo quello che è l'ordine e di conseguenza vediamo quando cominciano ad arrivare i vari follower. Poi di conseguenza una volta comprato quello che è il paghetto di 10k, già fatto, di conseguenza andiamo a prendere quelle che sono i like e quelle che sono le views. Andiamo a inserire quello che è il link e aggiungi al carrello. Di nuovo anche qua andiamo a quello che è il checkout. Adesso compilo e di conseguenza vi faccio vedere quelli che sono i vari risultati. Come potete vedere ragazzi è pazzesco. Stanno già arrivando i like, i follower, le views. C'è roba, roba da paura. Letteralmente roba da paura, come potete vedere. Qui siamo già a 600 follower. Letteralmente rifresciamo, vediamo che saliamo ogni volta. 687, 689. Andiamo a vedere quello che è il reel. È a 1584. Vediamo che qui abbiamo 12.000 like. Addirittura noi ne abbiamo presi solamente 10.000. E questo è uno dei miei migliori metodi per crescere su Instagram nel 2024. E addirittura potete creare pagine. Quelli che possono essere di animali, di business, di fitness. Letteralmente. E potete andare a rivenderli sul sito che vi ho fatto vedere prima. Quindi FameSwap. Come potete vedere ovviamente quelli che sono i vari follower e quant'altro. Qui stiamo parlando di follower internazionali. Che sono molto buoni. Che non perdete e quant'altro. E invece se volete dei follower italiani dovete contattare quello che è l'assistenza sotto questo aspetto. Ovviamente la qualità si paga. Quindi di conseguenza se volete dei follower italiani dovrete ovviamente andare a pagare un pochino di più. Ed eccoci qua ragazzi. Sono arrivati tutti gli ordini che abbiamo fatto. Anzi addirittura abbiamo avuto sempre di più di quello che abbiamo richiesto. Quindi di conseguenza andiamo a vedere quelli che sono. Stavamo a zero visualizzazioni. Siamo a 15.900 visualizzazioni. Andiamo a vedere quelli che sono i like. Ne abbiamo presi 10.000. Siamo a 12.000 like. E di conseguenza abbiamo zero follower. E siamo a 10.300 follower. Di conseguenza super super funzionante. Trovate tutto quanto in descrizione. Trovate il link nella descrizione. Utilizzate il codice scontato. La pagina di far accrescere è letteralmente Fast Media. Potete andare anche direttamente qui. Direttamente dentro il sito. Quindi cliccando su quello che è il link in bio. Oppure cercandola su Google con Fast Media follower. Ok? Di conseguenza io spero di essere stato esaustivo. Spero che vi possa essere utile. Lasciate qui i commenti se volete qualsiasi altra piattaforma. Facebook, TikTok, Twitter. Quest'altra cosa. E noi ci vediamo presto.